Eccoci qua per il video dei pronostici di serie A e B, il gioco insieme a voi, il gioco insieme a voi nei commenti, fatemi sapere come siete andati l'altra volta, quanti ne avete prese, per i nuovi c'è sempre tempo di giocare, quindi siete in tempo, ovviamente se arrivate domani evitate le partite di oggi venerdì e quindi non è un problema. Ragazzi, ragazzi, grazie a tutti i nuovi iscritti, quasi tutti i napoletani e benvenuto al, no benvenuto, grazie di cuore all'abbonato che è Vincent, il mio primo abbonato nel canale che ha usato l'opzione, ci sono tre opzioni di abbonamento, basta che cliccate su abbonamento e poi vedete, offre un caffè a monta e grazie, grazie a 0,99 centesimi direi che si può anche fare. Grazie Vincenzo di cuore. Allora, allora, andiamo pure a elencare i risultati l'altra volta, quante ne ho prese, quante ne ho sbagliate. State pronti perché ho fatto una canocchia che è una figurace serie A indegna, poi fatemi sapere veramente come siete andati voi, non me lo fate scrivere 500 volte tutte le volte. Napoli-Lazio-1x, sbagliato. Monza-Empoli-x, sbagliato. Atalanta-Udinese-1, sbagliato. Fiorentina-Milan-2, sbagliato. Inter-Lecce-1x. Eeeh, l'ho presa. Sassuolo-Crimonese-1. Eeeh, l'ho presa. Per culo anche questo perché abbiamo rischiato. Sandorio-Serenitana-Gol. No, e questa mi ha fatto saltare le due bollette che gioco al sabato e la domenica da un euro. Era l'unica che ho sbagliato nella multipla, va bene. Spesce-Verona-x, presa. Torino-Bologna-x2, scagnata. Grazie Bologna, che vinci sempre tranne quando ti gioco io. E Roma-Juve-2, sbagliata che è questa, clamorosamente. Serie B, serie B. Ascoli-Bari-x2, presa. Pisa-Palermo-Gol, presa. Regina-Parma-1x, sbagliata. Brescia-Cagliari-2, sbagliata. Spal-Cittadella-x2, sbagliata. Beh, però. Como-Modena-x, sbagliata. Frosinone-Venezia-1, presa. Sul Tirol-Perugia-1, presa. Ternana-Benevento-Gol, presa. Tutto in fila. Genoa-Cosenza-1, presa. Quindi in Serie A ho fatto, penso, la figura più pessima, che abbia mai fatto. Non credo abbia mai fatto peggio di così. A memoria proprio no. E ne ho preso solo tre. In Serie B, invece, come sempre, ultimamente vado molto meglio in Serie B che in Serie A, ne ho preso sei, che non è malvagio su dieci, eh. Sei su dieci. Non è malvagio. Tra l'altro ho preso anche dei... ho preso gol, che non è facile, eh. Va bene, andiamo a dire quelle di questa settimana. Siete pronti? Siete carichi? Allora, andiamo, andiamo, andiamo. Allora, aspetta, 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 che qua mi si è aperta una finestra che non si deve aprire. Allora, si parte con Cagliari-Ascoli stasera, dove io vedo un X. Ve lo dico, io vedo un X. Benevento-Como, vedo un altro X, vi stupirò. Vedo un altro X anche in Benevento-Como. Cittadella-Palermo vedo un 2. Modena-Pisa. Modena-Pisa X2, prima doppia. Parma-Sul-Tirol, seconda doppia. Bella questa, eh. 1X, bella Parma-Sul-Tirol. 1X. Andate a vedere il resoconto della Serie B che faccio tutte le settimane. Dai, che io la porto, mi piace la Serie B. Vedo che ultimamente vi state appassionando, quindi spero che aumentate. Dai, 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 che ci divertiamo. È bello, faccio resoconto. Adesso farò tipo quello della Serie A, un po' più bello. Dai, invece che farvi la telecronica di tutte le partite, che è una palla. Perugia-Regina, invece, vedo... Cazzo, ho già giocato due doppie. Perugia-Regina... Ai, 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 ai. La Regina è in crisi nera, dai. Cioè, vuoi che non ne vinca più una? Proviamo a giocare un 2, Perugia-Regina, ui. Venezia-Brescia, X. Bari-Frosinone, vedo gol. Cosenza Spal è la mia terza doppia X2, perché questa è tosta X2 Genoa Ternana, secondo me è un 1 andiamo con la Serie A che anche essa gioca stasera con l'anticipo dell'Inter Spezia e Inter, secondo me è un 2 non credo che sta a vedere Empoli Udinese X X Napoli-Atalanta 1X speriamo almeno di portare via un punto speriamo di sbagliare clamorosamente come con l'Alastio e che sia un 2, ma veramente speriamo Bologna-Alastio quante doppia ha giocato? una sola, Bologna-Alastio 1X perché l'Alastio è senza immobile l'Alastio viene dalla sconfitta europea che secondo me è un po' di strasci chi li lascia viva la Romagna e Bologna pur senza Orsolini ho letto oggi per me ce la può fare la turbo chiappa di moto torna in azione un 1X magari un pareggino 1X prima doppia no, seconda doppia scusate Lecce-Torino cazzarola Lecce-Torino Lecce-Torino mi gioco già la terza doppia tutta di fila che mi giocherà scusate se sentite il cane russare non so cosa farci oggi se non sta qui con me piange X2 Lecce-Torino X2 terza doppia quindi l'abbiamo finita le doppie Cremonese-Fiorentina dai viola is on fire andate a vedere il video delle coppe europee mi raccomando che dai è carino su fatemi felice ho fatto un mix di tutte e tre insieme Cremonese-Fiorentina 2 Verona-Monza cazzarola finito le doppie Verona-Monza X anche se mi piace il 2 però vi dico X Roma-Sassuolo 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 1 e Juve-Sandoria 1 e Milan-Salernitana 1 3-1 di fila alle tombola andiamo così ragazzi grazie di aver visto questo video giocate con me massimo tre doppie iscrivetevi al canale attivate la campanella mettete mi piace quindi vi vedete commentate se volete potete tranquillamente abbonarvi al canale non è gratuito quindi pensateci non è che se lo volete fare lo fate se non ho invece le cose gratuite come i like e i commenti mi fa piacere se li lasciate anche l'iscrizione ok ragazzi grazie grazie e appunto giocate con me e soprattutto fatemi sapere come siete andati l'altra volta che io tutte le volte tutte le sante volte madonna quanto russa sto cane è la terza volta che registro i video perché sto cane è russa tutte le sante volte ve lo devo chiedere 50 volte dai fate i bravi hashtag della fine per chi è arrivato alla fine lo deve mettere nei commenti mi raccomando hashtag della fine monta non ne azzecca una è un po' lungo però monta manco una non so monta non ne azzecca neanche una così a gratis ragazzi grazie di cuore vi abbraccio di cuore il vostro monta ci vediamo domani per i video della dea sicuramente poi non credo altro ma vediamo vi abbraccio di cuore il vostro monta andatevi a vedere i video di questa settimana andatevi a recuperare recuperateli fate sempre in tempo ancora grazie all'abbonato ciao ragazzi vostro monta ciao 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 ciao